La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati con la nostra rassegna stampa in questo giovedì 10 ottobre, andiamo a vedere subito i titoli del mattino L'apertura Multe e premi il nuovo fisco, sanzioni fino a 2.000 euro per i negozi che non fanno lo scontrino Stretta su rimborsi e fraudiva Manifesto per il mezzogiorno dell'ex ministro De Vincenti con imprenditori, rettori e società civile Lotta alle fraudi su accise e diva nel commercio carburante e delle bevande alcoliche La lotteria degli scontrini con multe fino a 2.000 euro e commercianti che non inseriscono il codice fiscale degli acquirenti per permettergli di partecipare all'estrazione Il piano anti-evasione del governo prende forma Intanto oggi l'ex ministro De Vincenti presenta a Roma il manifesto 180 firmatari da nord a sud che punta a valorizzare il capitale sociale del mezzogiorno La festa per i 10 anni senza alcuni big Movimento 5 Stelle, Ribelli di Napoli, Rideship da rivedere Dovrebbe essere una festa per celebrare i 10 anni del movimento Invece la due giorni, sabato e domenica, la mostra d'oltremare a Napoli Di Italia 5 Stelle si presenta carica di dissenso Attesi di Maggio e Casaleggio, ma fanno rumore le numerose defezioni e le proteste Leadership da rivedere E poi vendita sospesa Whirlpool fallisce anche la mediazione a Palazzo Chigi La procedura di cessione dello stabilimento Whirlpool di Napoli è stata sospesa fino al 31 ottobre Fallita la mediazione del premier Conte, che ieri ha incontrato i sindacati Sempre di taglio alto, il caso di Mugnano, femminicide domiciliari Vende orologi su Facebook E i domiciliari, ma vive come se fosse libero Da casa sua pubblicizza e presumibilmente vende Una serie di prodotti sulla pagina di un social network Olimpia Cacace, la madre di Alessandra Madonna La giovane ballerina uccisa due anni fa dall'ex fidanzato Giuseppe Varriale Ha ingaggiato una nuova battaglia legale con il giovane Condannato in appello a 8 anni per omicidio predere intenzionale Ieri la mamma di Alessandra lo ha denunciato ai carabinieri di Mugnano Centropagina, il nuovo fronte di guerra La Turchia entra in Siria, raid aerei sui curdi Trump frena, cattiva idea La web, fermatevi Poi l'allarme antisemitismo Neonazi assalta la sinagoga in diretta web Germania shock, due morti ad alle, spari a granate Arrestato 27enne Di taglio basso, dopo la sentenza dell'Europa Noa Lergastolo, Cutolo e Zagaria Che sono già pronti a chiedere i permessi Da un lato la Corte Europea dei diritti dell'uomo Dall'altro la consulta Mancano 12 giorni al verdetto della Corte Costituzionale Sul ricorso del boss di Cosa Nostra Sebastiano Cannizzaro Elemento di spicco del clan Santa Paola Ritiene di aver diritto ai permessi premio Dopo il rigetto di Strasburgo, due giorni fa La sentenza della consulta, attesa per il 22 ottobre Che rappresenta uno spartiacco in materia di diritti dell'uomo E di Ergastolo Stativo Boss pluricondannati come Ferdinando Cesarano Raffaele Cutolo, Giuseppe Setola Michele Zagaria I fratelli Pasquale e Salvatore Russo Che sono pronti a fare ricorso alla CEDU Per poter passare almeno un giorno fuori dalla cella Ma non ci sono solo gli Ergastoli in fila per Trasburgo La materia dei diritti umani è più ampia E trovare un cavillo potrebbe essere d'ora in poi Molto meno difficile E poi il caso Bortuzzo La sentenza, Manuel, 16 anni agli aggressori Ma nessuno mi ridarà le gambe Lasciamo la prima pagina Ma restiamo sempre sul mattino Andiamo a vedere gli altri titoli Nello specifico il primo piano sulla politica Dopo il taglio dei parlamentari Legge elettorale in due fasi E spunte e salva prescrizione Entro dicembre il testo ma varo rinviato Giustizia, stop e processi Se durano oltre i 5-6 anni Taglio dei parlamentari La raccolta firme per il referendum Già partita alle camere Nel dettaglio L'altra sera cena Oltre a discutere dell'alleanza in Calabria Studiare la strategia per mettere la sordina A Matteo Renzi Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti Hanno anche siglato un patto antiframmentazione Traduzione Scrivere una legge elettorale Che possa disinnescare tale Aviva l'ex premier E così è saltato fuori Il doppio turno su base nazionale Con premio di ucoalizione Oppure un sistema proporzionale Con sbarramento al 5% Zingaretti e Di Maio Non hanno però alcuna fretta Di varare la nuova legge elettorale Volta a riparare i danni Della rappresentanza Provocati dal taglio Dei 345 parlamentari Perché PD e Movimento 5 Stelle Vogliono prima verificare Che i rispettivi elettorati Siano compatibili e sommabili E perché Come spiegano al Nazareno Se facessimo subito La riforma elettorale Il Parlamento attuale Ne risulterebbe immediatamente Delegittimato Dunque è meglio aspettare Ciò significa che entro dicembre Verrà depositato il testo di legge Ma soltanto dopo Forse addirittura Il ridosso del semestre bianco Che precederà le elezioni Del capo dello Stato Nel 2022 Verrà approvato Non c'è fretta Spiega una fonte ed em Che segue il dossier Tanto più perché Indispensabile coinvolgere Nel dibattito Tutte le opposizioni Le leggi elettorali Non è non bene Farle a colpi di maggioranza Come insegna L'Italicum Voluto da Renzi Nel 2015 E bocciato dalla consulta Nel 2017 Senza mai essere diventato Operativo E sul fronte giustizia La trattativa Qualcosa che si muove Nel vertice della maggioranza Tenutasi la settimana scorsa Il guardasigilli Alfonso Bonafede Era stato tranchant La riforma della prescrizione Legge dello Stato I rappresentanti Del PD Seduti al tavolo Si erano lamentati Con il capo delle cazioni Dario Franceschini Così non si può andare avanti Se si alzano muri È difficile trovare una soluzione Ma oggi pomeriggio Al vertice con Bonafede Ci saranno solo i dem E viene considerata probabile Un'intesa sulla rom-up Della riforma della giustizia Il disegno di regge Per il nuovo processo penale Partirà in un ramo del Parlamento Quello sul civile nell'altro E pare possibile trovare l'accordo Anche sulla prescrizione Con una norma salva guardia Una sorta di clausola L'obiettivo del PD È quello di dimezzare i tempi dei processi E la proposta sarà questa Qualora un processo Dovesse durare più di 4-5 anni Scatterà la prescrizione Altrimenti no E di taglio basso Le aule si preparano Via 80 strapuntini E tutti i banchi elettorali La stretta potrebbe aiutare A risolvere il problema degli uffici Oggi ce n'è solo uno Ogni tre parlamentari Ovviamente a seguito Del taglio dei parlamentari Lasciamo anche questa pagina E andiamo a vedere Il mattino dedicato Alla politica internazionale Operazione Fonte di Pace Le truppe turche in Siria Raid aerei contro i kurdi Parte l'offensiva di terra Avanzata per 30 km L'accusa Già 11 morti Vittime anche tra i civili Oggi riunione urgente dell'ONU Trump avverte Se Ankara eccede Pagherà un prezzo enorme Operazione Fonte di Pace L'intervento militare Dell'esercito turco Nel nord della Siria A difesa dei confini Iniziata a ieri alle quattro locali Le truppe regolari Della Mezzaluna Avanzano insieme A uno dei suoi principali Alleati militari L'esercito nazionale siriano Ovvero gli oppositori Anti-Assad Che dall'inizio Della guerra civile in Siria Hanno basi logistiche in Turchia Dove hanno peraltro Trovato asilo Molti rifugiati politici siriani Le forze militare congiunte Hanno cominciato a muoversi in Siria Verso la città di Tal Abiyad Uno dei primi avamposti Liberati dalle truppe americane Erdogan Ha parlato con Putin Alleato del presidente Assad Prima di dare al via L'operazione nell'area occupata Dai separatisti kurdi siriani Ankara ha informato Sia Damasco Con una nota diplomatica Al consolato di Istanbul Subito dopo l'inizio Dell'offensiva Sia il consiglio di sicurezza Dell'ONU Appena due ore Prima dell'invasione siriana E in tal senso Ankara punta a creare Una zona cuscinetto Lungo il confine Anche con l'aiuto Dei ribelli anti Assad E le forze alleate Invece all'IPG Lanciano un appello Istituire una no flight zone Per fermare i bombardamenti E ritaglio basso No a scontri con l'alleato Nato I soldati USA Arretrano in Iraq Il ritiro del contingente Deciso da Trump Contestato anche negli Stati Uniti Ed anche dai repubblicani Lasciamo anche questa pagina Andiamo a vedere Il mattino di Salerno Il titolo di apertura Parla della banda Delle ambulanze Presta nome Appalti senza gara Scacco al sistema Squecco 18 indagati Sigilli a 23 mezzi Le indagini partiti Dopo la sfilata a Capaccio Per la sfilata di Alfieri Il sindaco Ma io non c'entro E ancora la decisione Del tribunale Gambino decade Era incandidabile Pagani si spacca Poco da festeggiare Il tribunale di Nocera Ha deciso Gambino incandidabile Decaduto da sindaco di Pagani E condannato al pagamento Di spese processuali Per oltre 8 mila euro Accolto il ricorso Presentato dal prefetto Di Salerno Francesco Russo Discusso in aula Dal procuratore capo Della Repubblica Di Nocera Inferiore Antonio Centore Dal consigliere comunale Rita Greco E dall'avvocato Vincenzo Calabrese Difesi dagli avvocati Felice Laudadio E Vincenzo Vairo La città ci si spacca C'è poco da festeggiare Dice l'ex sindaco Bottone Sconfitto da Gambino Nel duello dello scorso giugno Sempre di taglio alto Delle infrastrutture Porto La crisi non si ferma Risalita solo con i dragaggi E sempre di lato La politica Fronda PD Movimento 5 Stelle Contro De Luca Ma lui tira dritto Pronte le civiche La scuola salva precari Fuori supplenti In cattedra quest'anno Centropagina La Kermes Il derby delle luci Senza storia Avellino contro Salerno Dibattito tra ironia E sfottò La cronaca La tragedia Al Da Vinci Tradita dal cuore Melissa non aveva Malattie pregresse A neurisma escluso Uccisa da un attacco Improvviso e imprevedibile Oggi San Mango Si ferma per l'addio Alla sedicenne Ci vorrà qualche settimana Perché al primario Di anatomopatologia Del Ruggi Vengano consegnati risultati Sui tessuti prelevati A Melissa Larocca I cui genitori Hanno chiesto ulteriori accertamenti Per comprendere Le reali cause Della sua morte Esclusa anche L'autopsia Dall'autopsia L'ipotesi di un aneurisma I dirigenti dell'aslo Volontari onlus E familiari C'è anche la moglie Consigliere comunale A Capaccio Pestum Sotto la testata La sentenza Pagani Gambino decaduto Passa il ricorso Del prefetto Centropagina Via Vernieri Pisauta A mezzo servizio Dalle venti Inutile invocare aiuto E ancora la protesta Freccia rossa soppressa Scoppia la rabbia Al binario Di lato La tragedia A Salerno Melissa Oggi l'addio Lacrime in assemblea Sempre a Salerno Flop a Sant'Agostino Niente più strisce blu Per la politica Taglio parlamentari Saltano 21 poltrone Sempre di lato A Cava dei Tirreni Il gioco d'azzardo Gli under 18 Preda della ludopatia A Monte Corvino Pugliano Vendesi Parca Aurora L'asta del comune Parte da 3,8 milioni di euro A Scafati il pentito racconta Voti per Paolino Chiesti pure a Caserta Lasciamo anche la città Andiamo a vedere i titoli Del quotidiano Cronache Andiamo a vedere Il titolo d'apertura Anche in questo caso Dedicato alla studentessa Di Salerno Troppe bugie Summelisse I genitori Anzi ad interrogazione Dieti o trecce con i suoi capelli Nulla di più falso Il cuore della ragazza Ceduto Non c'era nulla da fare La visita di Monsignor Bellando Oggi funerali A San Mango E sotto la testata Pagani La sentenza del tribunale Di Nocera Gambino non era candidabile Arriva il commissario Al comune Poi a Salerno Nel mirino Gli apparti Coop Nel mirino Dell'Anac Gli affidamenti Del comune Per asili nido E ancora Salerno Socialista in lutto Per la morte Di Antonio A Picella Sempre a Salerno Denunciata irregolarità Nel pagamento Dell'IVA Presidente Ricco Ma i conti non tornano Esposto contro la gestione Economica Dei cannottieri Irno Scafati Processo a Liberti Pentiti ricordano male Di taglio basso A Capaccio Dalla sfilata Delle ambulanze Agli affidamenti Per il 118 Smantellato L'impero di Squecco Indagati Prestanome E l'ex moglie Perquisita anche L'asilo di Salerno Coinvolta alcuni Funzionari pubblici Sequestrato pure Lido Kennedy Stefania Nobili E capogruppo Consiliare E ora ci fermiamo Per qualche minuto Di pubblicità Torniamo tra pochissimo Con la seconda parte Della nostra rassegna stampa Tra poco Bentrovate la seconda parte Della nostra rassegna stampa Restiamo sempre sul mattino Andiamo a vedere Il primo piano Su Salerno Si parla ancora Della tragedia Avvenuta al Davinci Melissa tradita dal cuore Ma non aveva patologie Un attacco improvviso Imprevedibile Ha ucciso la sedicenne Escluso la neurisma Questo pomeriggio San Mango Piemonte Si ferma per i funerali Della studentessa Nel dettaglio Ci vorrà qualche settimana Perché vengano consegnati I risultati Sui tessuti prelevati Alla giovane Melissa Larocca I cui genitori Hanno chiesto ulteriori Accertamenti Per comprendere Le reali cause Della sua morte Esclusa anche Durante l'autopsia L'ipotesi di una neurisma I medici sono abbottonatissimi Ritenendo di dover dare Il verdetto per primo Al padre Vinicio Ma dopo gli esami diagnostici Eseguiti ieri Sarebbe confermata La causa cardiaca Improvvisa e imprevedibile Non dovrebbero esserci dunque Patologie sconosciute Alla famiglia Anche se la domanda di tutti Resta sempre la stessa Perché ad una sedicenne Nella serata di Martellisi E tenuta la veglia Che in un primo momento Era slittata Gli amici di Melissa Si sono incontrati Quasi spontaneamente A casa dei suoi genitori A San Mango Piemonte E insieme hanno pregato Per la sedicenne Colta da malori improvviso Mentre era a scuola Nell'istituto da Vinci di Salerno Ieri a Ruggi L'ultimo saluto Da parte della Salernitana Di cui Melissa La tifosissima Con una delegazione Composta tra gli altri Dal tecnico Gian Piero Ventura E dal direttore sportivo Angelo Fabiani I funerali della ragazza Invece si terranno Questo pomeriggio Alle ore 16.30 Presso la chiesa di Santa Maria A pochi passi Dalla sua abitazione E intanto All'istituto da Vinci Lentamente Il corpo docente E gli studenti Stanno cercando Per quanto possibile Di tornare alla normalità Anche se quanto accaduto lunedì Ha lasciato tutti sotto shock Soprattutto i compagni Di classe di Melissa Che l'hanno vista morire Sotto i loro occhi Increduli Ricordiamo che Quella di lunedì Per la sedicenne Era soltanto Una giornata come tante Quando di mattina presto È uscita di casa Per prendere il bus Diretta a scuola A Salerno Con le sue amiche Di San Mango E nulla lasciava presagire Che quelle potessero essere Le sue ultime ore di vita E di taglio basso Sempre la cronaca Lucia morta dopo l'intervento Presto altre analisi cardieche La prossima settimana Si conoscerà la data In cui si svolgerà L'esame supplementare Sul cuore di Lucia Ferrara La 17enne Morta il 4 settembre scorso All'ospedale San Giovanni di Dio E Ruggi d'Aragona Dopo un intervento Di sostituzione Della valvola mitralica Eseguito nel reparto Di cardiochirurgia Diretto dal dottor Coscioni Sono giorni di attesa Per i genitori Della ragazza cavese Con la passione Per il teatro Il papà Carmine Ferrara Non si è rassegnato La morte della giovane figlia E vuole conoscere la verità Su quello che è accaduto Ha detto che sarebbe stato Un intervento di routine Spiega il papà A poche ore dal recesso Solo qualche giorno prima Aveva fatto la salita Tutta di un fiato Era una ragazza sana Ed invece siamo entrati In un incubo senza fine Lasciamo questa pagina Andiamo a vedere ora Il primo piano sulla politica Andiamo a vedere Era incandidabile Alle comunali Gambino De Cade C'è il commissario Il tribunale di Nocera Accoglie il ricorso Della prefettura Ma il sindaco di Pagani È pronto a dare ancora battaglia Il tribunale di Nocera Inferiore Ha deciso Alberto Gambino Incandidabile Decaduto da sindaco di Pagani E condannato Al pagamento di spese processuali Per oltre 8.000 euro Accolto in maniera totale Ricorso presentato Dal prefetto di Salerno Francesco Russo Discusso in aula Dal procuratore capo Della Repubblica Di Nocera Inferiore Antonio Centore E dal consigliere comunale Ritagreco E dall'avvocato Vincenzo Calabresi Difesi dagli avvocati Felice Laudadio E Vincenzo Bairo Il provvedimento Poco dopo le 17.30 di ieri Il collegio Della prima sezione civile Del tribunale Di Nocera Inferiore Preseduto da Simone Giannone Ha emesso la sentenza Di accoglimento Del ricorso Presentato dal prefetto russo Sull'incandidabilità Di Gambino Sancita lo scorso 16 maggio Della sentenza Numero 15.725 Della corte di Cassazione Il collegio Dopo l'udienza Del primo ottobre Si era riservato Per esprimere Il proprio giudizio Giudizio è arrivato Dopo 8 giorni Di Camera di Consiglio Gambino Difeso dagli avvocati Nicola Scarpa Filippo Castaldi E Lorenzo Lentini Con quest'ultimo Presente anche All'udienza del primo ottobre E' stato dichiarato Decaduto Dalla carica di sindaco Essenzi Dell'articolo 143,2 Del testo unico Degli enti locali Oltre alla decadenza Gambino E' stato condannato Al pagamento Delle spese legali Di oltre 8.000 euro Complessivi Alla prefettura di Salerno Al consigliere comunale All'avvocato Vincenzo Calabrese E per i giudici Intollerabile Che rimanga in carica Dopo che nel 2011 Il consiglio fu sciolto Per sue responsabilità Già accertate E la città Torna a spaccarsi C'è poco da festeggiare Il rivale Bottone No alla ribalta Solo per queste situazioni Villani Del Movimento 5 Stelle Finisce una fase D'incertezza Vuolo della Lega Non molli Di taglio basso PD e Movimento 5 Stelle Avanza la fronda Antide Luca La sfida del Presidente Liste civiche pronte Il Governatore Tira dritto E si affida E si affida Ai fedelissimi Centristi E società civile Mi interessa Solo l'accordo Con i cittadini Ed ora Lasciamo anche Questa Pagina Del mattino E andiamo A vedere La pagina Dedicata Alle aree interne Appolla Molesta La figlia Dei vicini Sessantenne Indagato Andiamo a vedere Un uomo di circa Sessant'anni Dipendente pubblico Accusato di violenza Su minore In un paese Nell'area nord Del Vallo di Diano Nei giorni scorsi È stato notificato L'avviso di conclusione Delle indagini Nei suoi confronti Ora avrà 20 giorni Per le memorie difensive I fatti risalgono A quest'estate L'uomo molto noto In paese Avvicina la figlia Dei vicini di casa La ragazzina Ha solo 13 anni Sta giocando nel cortile Con una scusa Di rega con lei In un luogo lontano Da occhi indiscreti A questo punto Stando alla denuncia La bambina La bacia sulle labbra La ragazzina impaurita Scappa Dice tutti i genitori Che a questo punto Decino di rivolgersi Immediatamente Ai carabinieri Della stazione di Polla Che occorre precisare Hanno giurisdizione Oltre che di Polla Anche di Sant'Arsenio San Pietro Altanagro E San Rufo E raccontano l'accaduto I militari dell'arma Avviano gli accertamenti Nei giorni scorsi A 60 anni È stato notificato L'avviso di conclusione Delle indagini L'episodio sopra raccontato È l'unico accaduto E non ci sarebbero Ulteriori casi Gli accertamenti Sono durati diversi mesi E sono stati posti In essere con la massima cura E anche nel tener conto Dello stato della ragazzina Non è purtroppo Il primo caso del genere Nel ballo di Diano A Polla Un giovane sotto accertamento Da parte dei carabinieri Della compagnia di Sala Consilina Guidati dal capitano Davide Acquaviva Per aver proposto Dei soldi Ad una 12enne Per un giro in auto Altri episodi simili Si sono registrati In altre zone del comprensorio E c'è sempre Il massimo riservo Da parte della procura Di Lago Negro Che porta avanti Le indagini Così come da parte Degli uomini dell'arma Su questo caso Ora si attende La decisione del GIP Dopo la presentazione Delle memorie difensive Dell'uomo Lasciamo il mattino E andiamo Sul quotidiano cronache La denuncia A scrivere una lunga lettera Una docente salernitana Iscritta al Gilda Le lezioni dovevano tenersi Il fine settimana Salvo poi optare Per il pomeriggio Il perché Riguarda i corsi Di sostegno didattico In orari inconciliabili Docenti salernitani Impossibilitari A seguire il corso Di sostegno didattico A denunciarlo Una iscritta Al sindacato Gilda Secondo cui All'unisa Non è stato possibile Organizzare il corso Per il sostegno didattico In base alle esigenze Dei docenti A causa della disorganizzazione Del campus universitario Che non ha reso possibile Quest'opportunità Difatti la professoressa In questione Avrebbe provveduto A pagare la prima rata Trattandosi di un corso A pagamento Per un corso totale Di circa 2000 euro Per poi dover rinunciare Dopo la giornata inaugurale Dello scorso 29 agosto In quanto orari e giorni Non inconcidivano Il 24 settembre Difatti L'unisa Ha provveduto A pubblicare Il calendario provvisorio Delle elezioni Con inizio lunedì 30 settembre E con svolgimento Contrariamente A quanto affermato Il 29 agosto In quattro pomeriggi A settimana Lunedì Martedì Mercoledì E venerdì Dalle 16 e 30 Alle 20 e 30 Trattandosi di attività Di tirocinio indiretto Non è permessa Nessuna assenza Dichiarato ancora La docente salernitana Evidentemente La loro necessità Di recuperare il tempo perduto Ma a questo punto Chi era stato contattato Per incarichi fuori provincia Ha dovuto rinunciare All'incarico Mentre chi lavora Ad una certa distanza Dall'università Ha dovuto rinunciare Al corso Dal momento Che neanche le 150 ore Di diritto allo studio Sarebbero riuscite A coprire l'assenza Di quattro giorni a settimana Più permessi Per le ore di tirocinio Che ugualmente Non possono essere svolte In un aereo di servizio In tutta Italia I corsi sono iniziati a lugio E si sono protatti Per tutto il periodo estivo Con una pausa Di due o tre settimane ad agosto A Salerno Si è avuta la giornata Inaugurare il 29 agosto E durante l'incontro È stato detto Che ancora non si erano Concluse le gare Per la scelta dei docenti E pertanto I corsi non sarebbero Iniziati subito E fu anche chiarito Che il rettore Non aveva autorizzato L'apertura dell'università Di sabato e domenica Come era avvenuto Per i cicli scorsi E che perciò Si sarebbero tenuti Presumibilmente Di giovedì e venerdì pomeriggio Ha sottolineato Poi l'iscritta Al sindacato Gilde Fu unvermando Che l'università Avrebbe dovuto tenere i corsi Nel fine settimana E con questa pagina di crona Che si conclude Quest'edizione Della nostra rassegna stampa Io vi ringrazio Per l'attenzione E vi auguro Un buon proseguimento Di giornata